Il libro Il mondo nuovo è edito dall'Alevante di Bari, la biografia di un uomo di Mola che tanti anni fa decise di andare in America in cerca di fortuna, senza però riuscirci. E' la storia di un ragazzo di Mola di Bari partito per l'America in cerca di fortuna. E' la storia dell'autore del libro Il mondo nuovo, Vincenzo d'Acquaviva, che a 25 anni, nel 1972, decise di lasciare il suo paese in Puglia, alla volta di New York, dove avrebbe voluto fare il giornalista per un giornale per i toli americani. E' la storia di tantissimi che dall'Italia, dal sud Italia ancora di più, erano costretti a trasferirsi in quegli anni oltreoceano per lavorare, in un momento storico in cui il razzismo era tanto e gli italiani erano costretti a sacrifici e umiliazioni. Ma la storia dell'autore non è quella di coloro che poi ce l'hanno fatta. Lui, dopo otto anni a testa bassa, è tornato indietro, come è successo a tantissimi. Ho ripreso gli studi, mi sono diplomato, poi sono andato all'università, mi sono laureato, perché ho voluto far capire che, anche stando in Italia, ci può essere un modo per riscattarsi. Mola di Bari, ancora di più degli altri centri del Mezzogiorno e della Puglia, registra grandi numeri di immigrati negli Stati Uniti. Ora vive all'estero, comprendendo le seconde e le terze generazioni, il doppio dei molesi residenti nel proprio paese. Grazie a tutti.